Beh, insomma io penso che invece sia stato un passo in avanti perché poter giocare contro la Fiorentina che è una squadra che punta la Champions League all'altezza, non mi ricordo una parata di abbiati a San Siro, da un punto di vista se tu mi dici così vuol dire che abbiamo fatto credere a tutti di essere diventati grandi e questo penso sia frutto dei ragazzi, del loro lavoro e della loro consapevolezza. Insomma abbiamo fatto un'ottima partita, forse la miglior partita in senso assoluto dal punto di vista difensivo, Abbiati non ha mai compiuto un intervento contro Quadrado, un giocatore che vogliono tutte le squadre del mondo, Babacar che sta facendo molto bene, per cui insomma io sono contento, è chiaro che c'è un po' di rammarico perché quando va in vantaggio e hai secondo me due o tre contropiedi che potremmo sfruttare meglio, il tiro di Menez che pensavo andasse dentro quando l'ho visto puntare uno contro uno, magari rimane un po' di rammarico perché su quel tiro di Illici ci abbiamo compiuto una leggerezza visto che la palla era nostra, noi dobbiamo continuare su questa strada, siamo secondo me in un'ottima posizione di classifica, vedo questa squadra in crescita, siamo davanti a delle squadre molto più che pensavano di esserci davanti, per cui dobbiamo continuare su questo passo. Per Torres speravo vincendo 1-0 che la velocità dei miei attaccanti mi potesse dare velocità in attacco e ho aspettato il momento per metterlo, insomma ho giocato solo un quarto d'ora, però insomma andiamo avanti, è chiaro che quando devi fare delle scelte così difficili qualunque giocatore lascerai fuori, dopo ti diranno sempre perché è stato fuori o perché è entrato dopo, io devo guardare quello che fanno in campo e ho pensato così.